Io ritengo che il crocifisso non sia semplicemente un simbolo storico, ritengo che il crocifisso in Italia soprattutto sia un simbolo politico, faccia parte dell'espressione di un'istituzione molto forte che è la Chiesa Cattolica e penso che la Chiesa Cattolica intervenga costantemente in quella che è la vita politica italiana, quindi se ci sono scandalizzati tutti perché i sindaci leghisti mettevano il sole delle Alpi nella loro scuola, io non capisco perché la Chiesa Cattolica deve avere il potere di imporre allo Stato italiano di mettere il suo simbolo di marketing nelle scuole. Il voto, stella a destra, lei a sinistra, chi vota per la colostra di Fabrizio? Anzi la mano, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, quattordici. Si era prenotato per il veganismo, giusto? Qualcuno che ci vuole parlare della filosofia vegan? Una proposta sulla filosofia vegan? Si, la vorrei. Eh no, devi dire un po' più... Dì il tuo nome per Fabrizio e il nome del titolo, il nome del titolo e il titolo della proposta? Possibilità vegan, non so come chiamarla. Vabbè, vegan. Sì, finito. Alternativa vegan. Alternativa vegan. Vado? Siccome mi occupo di scienza dell'alimentazione e vedo che l'OMS, il massimo vertice mondiale sulla scienza dell'alimentazione che riguarda direttamente la nostra salute, sappiamo che siamo fatti di quello che mangiamo eppure non ci dicono che molte cose sono dannose per la salute, eppure il massimo vertice mondiale della scienza dell'alimentazione lo sa, sanno tutto ma non ci arriva niente a noi perché ai medici arrivano solamente dei volantini delle industrie farmaceutiche, per ogni malattia c'è un farmaco ma non ci dicono la causa principale che è l'alimentazione non adatta alla specie umana, la specie umana è una specie animale che ci insegna all'università, siamo un tipo particolare di scimmia, abbiamo un sistema digerente frugivoro, abbiamo una dentatura buonodonta, abbiamo tutto un sistema digerente, l'anatomia comparata sa tutto, l'OMS sa tutto, quindi l'OMS ha stabilito dalle statistiche, ha visto che diminuendo i prodotti animali, aumentando la quantità nemmeno di verdura perché non siamo erbivoli, siamo frugivoli come il gorilla che mangia solo frutta, che mangia una muscolatura eccezionale, e praticamente l'OMS sa queste cose, basterebbe diminuire un po' i prodotti animali, carne, pesce, uova, formaggi, aumentare la frutta, più che la verdura la frutta, invece l'OMS ha visto dalle statistiche che le percentuali di cancro, di AIDS, di tutte le malattie considerate inguaribili diminuiscono, si abbattono notevolmente diminuendo i prodotti animali, aumentando specialmente la frutta, e praticamente, allora voglio proporre che lo Stato dia non l'obbligo di essere vegan, ma almeno la possibilità a chi vuole, per esempio negli uffici, nelle mense degli uffici, chi vuole essere vegan e vuole eliminare un attimo invece della carne, si può prendere un secondo una lasagna, una pizza, un secondo, una parmigiana fruttariana, ci sono anche delle cose crudiste, fatte benissimo, eccetera, e dare la possibilità a chi vuole un'alternativa di salute, di farlo, invece ti obbligano le scuole, i bambini a mangiare cose che ormai l'OMS dice da anni, che sono cancerogene, e obbligano, ecco, dare almeno la possibilità, per chi vuole avere un'alternativa vegetale, vegan, basta, la possibilità, quindi, senza l'obbligo. Io ne farei uno, io a favore, no, però vedo che c'è... Davide, giusto? Sì, no, volevo dire, vabbè, io non sono un italiano vegano, va, si sente? Sì, credo, si sente? Sì, è timer, timer, sono favorevole ad avere però una diversa scelta nelle mense, nei ristoranti, eccetera, e volevo solo dire che mia ragazza lavora alla Intel negli Stati Uniti e lì praticamente hanno frutta disponibile gratuitamente per tutti gli impiegati, quindi l'idea non è campata per l'aria, è un'idea sensata. Abbiamo ancora due interventi del pubblico, beh, uno lo faccio io, allora, dove metti, fai qualche del timer? E ovviamente un minuto, no, no, siamo ancora con il pubblico, vorrei dire, dove appoggio la proposta, articolandola nel fatto di far sì che ci sia in tutti i ristoranti, in tutti i bar, ci sia almeno una parte del menù vegetariano, non so quantificarla, un terzo, un quarto, un quinto, e magari anche una proposta vegana, cioè che ci sia la possibilità che dal menù si possa mangiare vegano, non che devi dire a questa media riguarda che prodotto c'è in quella confezione, in quel prodotto, se c'è l'origine animale o meno, cioè che ci sia almeno una parte del menù vegetariana e una piccola parte vegana, dato che i vegani sembrano essere posti, però appoggio e integro la proposta in questo modo. Rimane un terzo intervento del pubblico? Qualcuno è contrario, magari? Nel 2015, per l'Expo, uno dei temi è l'alimentazione, no? Si è anche parlato che per poter sfamare, diciamo, tutta la popolazione, alimentarla in maniera, con dei vegetali invece che con la carne, carne richiede un grande spreco di territorio per l'alimentazione del bestiame, no? Quindi la trasformazione è molto pesante. E quindi se vogliamo effettivamente dare da mangiare a tutto, non so quanto siamo, 8 miliardi di persone, insomma, nell'alco di pochi anni lo saremo. Se vogliamo effettivamente dare da mangiare a tutti, dobbiamo cambiare completamente, sì, il tipo di alimentazione e quindi ridurre quelli che sono i consumi, i consumi anche di suolo. E quindi ritengo che tutto sommato questa proposta, anche in funzione dell'Expo 2015, potrebbe essere in effetti proposta ai vari ristoranti, alle varie mense. Adesso l'ultimo minuto del ponente, vieni, andai a fare, a rispondere, a integrare, insomma, il punto finale. Sì, mi è piaciuta anche quella dei ristoranti, perché chi vuole mangiare cibi adatti alla specie umana e non ci dicono, per esempio, faccio un cello velocissimo, 10 secondi, che non ci dicono che la dieta mediterranea è basata sulla pasta asciutta, eccetera, non ci dicono che il grano è in anatomia comprata, sanno benissimo un cibo per galline, noi dobbiamo, la gallina mangia il chicco di grano, le denti, si stanno ingerendo, è un cello granivoro, il grano è fatto per uccelli granivoli, noi siamo fruggivoli, questo ce lo dicono per tutto, ci riempiono di, quindi ci danno questa sbobba per galline, addirittura cotta, non ha più niente, col tempo è anche carcerogena, ci intossica, quindi praticamente chi vuole mangiare il cibo adatta alla specie umana deve mettersi in ginocchio nei ristoranti, voglio mangiare un cibo da uomo, non per galline, il cibo per galline è la pasta asciutta, il cibo per galline è il pane, addirittura cotto, sarebbe pure un'offesa dire che è cibo per galline, perché è cotto, la gallina mangia cruda, noi dobbiamo macinarla e ancora fa schifo, la farina mangiata cruda e così fa schifo, la gallina, dobbiamo cuocere, quindi diventa proprio intossica. Quindi in conclusione, se chi vuole mangiare cibo adatta alla sua specie deve mettersi in ginocchio al ristorante e chiedere mi toglie questo ingrediente, mi toglie quest'altro, quindi la possibilità di avere una parte di menù adatta alla specie umana e non per galline o per erbivori. di un'altra parte di menù adatta alla sua specie umana. di un'altra parte di menù adatta alla sua specie umana. di un'altra parte di menù adatta alla sua specie umana. di un'altra parte di menù adatta alla sua specie umana. Allora, avete un argomento che vi sta a cuore? Avete un cuore? Domanda, avete un cuore? Elio hai un cuore? Sì, anche più di uno. Hai anche un argomento da proporre? Sì, due argomenti. Uno alla vostra, dovrò proporre. Grazie a Laura. Il titolo? Il titolo del argomento? Metterei più di tre commenti per ribattere. Questa è una meta meta all'interno dell'esperimento. Qua hai fatto l'esperimento? Ok, allora, modifica all'esperimento. Allora, Elio chiede la modifica all'esperimento. Quanto all'audio, basterebbe togliere l'amplificazione e lasciare il microfono per registrare e per trasmettere alle 10.000 persone che dicevano. Gli altri nomi sono segreti. La proposta è? Due minuti, aspetta. Ma che serve? E' quello che fa bene. Più di tre interventi. Più di tre interventi perché... Per interventi, rispettano la... Deve usare il microfono. Non si sente. Beh, regolamente il microfono. No, abbiamo voltato di abbassarlo, non può. Ti sei fregato da solo. Un microfono senza amplificazione, ma con la registrazione e la trasmissione. Non sono all'altezza. Allora, propongo la prossima... La prossima sessione... Poi, cambiare l'esperimento... Cambiare il tipo di... Questo schema di... Gli esperimenti di non prezzi diretti. Cioè, permettere più di tre interventi. Tre interventi non sono sufficienti... A coprire, appunto, le possibilità... Dare modi al pubblico, ai partecipanti, di esprimere ognuno la sua. E poi la scelta di... Mettiamo che ci siano più di tre che vogliono... Che vogliono proporre... Che vogliono ribattere qualche cosa. Se c'è questa limitazione di tre... I tre vengono scelti in modo antidemocrato. Insomma, arbitrario o dittatoriale. Quindi, bisogna risolvere in qualche modo questa cosa. Non so come la bisogna risolvere. Può eliminare del tutto i... Gli esperimenti. Oppure eliminare del tutto i tre... De tre commenti. Oppure dare un numero... Potrebbe essere un numero infinito di dibattimento. Una quantità infinita di dibattito. Oppure una durata proporzionale al numero dei partecipanti. Che questo potrebbe essere... No, direttamente proporzionale. Oppure ha un numero... Una quota fisica. Farei io prima... La prima risposta la farei io. Metti il minuto.